Ciao, sono Davide Aru e sono qui per invitarti ai corsi che terrò nella scuola 100% Musica di Roma. Ciao, sono Massimo Varini e voglio invitarti al mio corso di chitarra che si terrà presso la scuola 100% Musica di Roma. Il corso ha come oggetto professione chitarrista, che è anche il titolo di un mio manuale uscito molti anni fa ma che è ancora attualissimo, tant'è che è oggetto di ristampa. Da questo manuale prenderemo gli argomenti chitarra elettrica, chitarra acustica e tutto quello che serve. Il corso sarà strutturato sull'uso della chitarra elettrica, acustica e classica nella musica pop, analizzando diverse tecniche per ognuno di questi strumenti. Durante gli incontri approfondiremo tutti gli aspetti fondamentali e indispensabili per il musicista che decida di affrontare con serietà il mondo della musica anche dal punto di vista lavorativo. registreremo diversi brani insieme cercando di capire per ogni strumento qual è la parte giusta e come suonarla. Il programma di studio è costruito sulla mia esperienza in ambito live e in studio. vi saluto e vi aspetto nella sede di 100% Musica a Roma. Vi saluto e ti aspetto a Roma a 100% Musica.